Ok, quindi è partito? Come luce e qui ti va bene? Passeggiamolo? Ah, io cammino, se vuoi volete. Ah, ok. No, la prima parte è tutta la prima parte. Racconto la mostra? Sì. Così vado? Sì. Questa mostra si chiama Models ed è una raccolta delle collezioni, dei plastici, dei modelli di architettura presenti nelle collezioni di architettura del Max. È una mostra grande che raccoglie più di 80 pezzi che ha a che fare con i lavori di 60 autori italiani e non italiani, con progetti del Novecento e del Ventunesimo secolo. La mostra si apre con una stanza interessante perché ci sono due grandissimi modelli molto importanti. Uno è un modello analitico della costruzione del palazzetto dello sport di Pierluigi Nervi e l'altro è un modello, anche quello ricostruito, quindi modelli postumi, come dire, di tutta l'area del Foro Italico per il progetto di Del Debbio, anche con i progetti poi dentro di Luigi Moretti, eccetera. La mostra nasce da, come dire, un po' da un'esigenza autarchica, no? Un po' nel museo in un anno economicamente difficile in cui stiamo facendo molte grandi mostre importanti. In autunno faremo una mostra sulle Corbusier a inizio dell'anno, un'altra grande mostra architettura contemporanea, quindi volevamo anche un po' lavorare sulla nostra collezione. E la mostra affronta tre temi molto importanti secondo noi, parlando della questione dei modelli. Uno, far vedere che cosa fa il Maxi, cioè come il Maxi acquisisce le sue collezioni, che cosa c'è nei nostri depositi, qual è la logica, la materialità fisica e il profilo della nostra collezione di architettura. Quindi cominciamo con plastici, avete visto, con progetti degli anni 30, fino a progetti dell'anno scorso, di quest'anno, che sono qui esposti. Quindi la prima cosa è far capire al mondo che cosa il Maxi raccoglie, come lo raccoglie, come lo conserva e come lo promuove. E qual è la cultura architettonica che cerca di, in qualche modo, riconfigurare attraverso la propria collezione. Perché un museo ha ovviamente come primo obiettivo quello di costruire una collezione che è testimonianza e promozione di una cultura architettonica per il passato e per il futuro. Il secondo tema importante è quello di riflettere su che cosa vuol dire un modello di architettura oggi. Noi sappiamo che l'architettura italiana ha sempre avuto un rapporto strano con il plastico. nella cultura progettuale anglosassone gli studenti sono sempre stati molto più abituati a lavorare sui modelli, sulla carta, sulla plastica, sulle macchine, sul legno. Ogni studente americano generalmente gli manca un dito perché hanno queste bellissime laboratorie con queste seghe fighissime e ogni tanto se ne giocano uno. Nella nostra cultura noi abbiamo avuto un rapporto complesso con il modello. Un modello è stato sempre pensato come un oggetto di presentazione che è più un oggetto di studio. Allora, oggi che è tutto di nuovo rimesso in discussione dal computer, dalle macchine laser, dalle macchine, dagli scanner e le stampanti digitali in 3D, abbiamo voluto rimettere in discussione questa questione del modello come strumento del progetto sia come rappresentazione ma anche come strumento di elaborazione, vedremo più avanti, dei plastici di sacripanti incredibilmente belli che raccontano proprio la fase di concezione del progetto e non tanto quella poi di presentazione al mondo, al committente o a chi per lui. Quindi il primo tema è quello della collezione del ruolo e del profilo culturale del museo. Il secondo è quello del ruolo del plastico nel processo progettuale e questi sono tutti architetti molto importanti che avevano bisogno poi di comunicare e investigare sul loro lavoro attraverso il plastico. Il terzo tema, è un tema più sottile per persone che hanno voglia di soffermarsi un pochino di più, è quello poi di ricostruire le storie personali. La mostra ha tutta una serie di modelli degli ultimi anni di Aldorossi, molto importanti. Ha per la prima volta in vista, in esposizione, una collezione molto importante dei lavori di Vittorio De Feo che è stato un architetto che negli anni 60-70 a Roma e in Italia ha fatto dei progetti interessanti. Scopriamo, lo vedremo più avanti, questi lavori di Sacripanti degli anni 60 che sono veramente postumi, sono gli unici forse tra questi modelli a cui non sapremmo dare una data. Noi lo vediamo lì, potrebbe essere stato fatto 50 anni fa, potrebbero averlo fatto Colas l'anno prossimo questi progetti. Quindi terzo e ultima chiave di lettura importante è quella di seguire le storie delle singole persone, cioè ricostruire figure di architetti attraverso questa selezione di loro lavori che la presenza dei modelli nella collezione ci consente. E questo è fatto in modo molto molto sottile. La mostra è stata curata poi direttamente dai responsabili delle collezioni che sono Smeralda Valente per le collezioni del XX secolo e Laura Felci per quelle del XXI secolo e però ho avuto anche la consulenza scientifica di uno studioso di grande valore che è Maristella Casciato. Quindi insieme abbiamo elaborato poi un modo di far dialogare tra loro questi plastici che ci sembrano interessanti, che non è quello cronologico, come dire, banale di sua sequenza, non è quello monografico, però è come se i modelli fossero attratti l'uno dall'altro, che ci fosse un magnetismo che ci permette di ricostruire delle storie, non una storia, ma tante storie che si sorrappongono. Ma la mostra anche dei pezzi straordinariamente interessanti che non si vedevano da molto tempo e che ci aiutano un po' a capire la storia dell'architettura a Roma, in Italia e nel mondo. Forse il primo, entrando che la prima vera chicca che troviamo, un modello d'epoca, è un progetto del Grau, in particolare di Anselmi e di Paola Chiatante del 1967, il concorso Cimitero di Parabita, è un progetto realizzato ed è interessante perché se lo guardiamo in pianta dall'alto, la pianta del cimitero è la testa di un capitello corinzio, questo in qualche modo è un atto di nascita prematuro del postmoderno che ci sarà poi in Italia alla fine degli anni 70, negli anni di Lione verso il modernismo, che non a caso si svolgeva a Roma, che era la città dove il modernismo aveva avuto la vita forse meno lineare, meno assertiva, meno chiara. Questo è un plastico, peraltro credo fatto da Francesco Cellini all'epoca, che era uno studente di Polistirolo e che appunto è arrivato in ottime condizioni fino a noi, di cui il museo va molto fiero. Segnalo che a fianco di queste cose qui, ed è interessante la coincidenza, il Bubur proprio in questi giorni è aperta una mostra di soli disegni relativa un po' a questi stessi anni con una chiave di lettura più tendenziosa, cioè più tendente alla tendenza, come dire. Però questa risonanza da questa mostra solo di disegni e questa solo di plastici ovviamente è interessante. A fianco vediamo un progetto, però ormai forse possiamo vedere anche direttamente qui a Roma prendendo la metropolitana, che è la nuvolona di Fuxas, quella è la sezione riportata di un progetto di nervi per una barca con l'anima d'acciaio, e l'altro è un nodo strutturale di Musumeci, quindi due grandissimi maestri d'ingegneria italiana messi a contatto. Un altro tema che va raccontato, che secondo me è divertente, è l'idea dell'allestimento. Il Maxi ha cominciato due anni fa con un forte slancio, anche stimolato da un museo che ha un'architettura così potente, intorno alla questione dell'allestimento, a prima con una mostra su Moretti allestita da Aldo Emonino, che come dire testava fino in fondo la potenzialità dell'allestimento del museo, costruiva moltissimo. Adesso un po' perché siamo in tempi già economicamente molto diversi, un po' anche per sperimentare soluzioni diverse. Ci piace molto fare allestimenti molto semplici, molto sobri, che lasciano molto spesso, chiamiamo architetti giovani a fare con noi gli allestimenti. In questo caso abbiamo fatto un lavoro incredibilmente di riciclo perché quasi tutto quello che vedete con cui è costruita questa specie di pedana da sfilate per modelle, più che per modelli, spezzata in segmenti, è tutto fatto con materiali ed elementi che erano più o meno in casa nel museo, però credo alla fine con un risultato molto molto lusinghiero. Nella mostra c'è una serie di modelli, come vedete, di Aldo Rossi. Forse quelli che più è interessante ricordare sono uno, la fontana della piazza del municipio, che in qualche modo è la comparsa di Aldo Rossi nella scena più sofisticata dell'architettura italiana e internazionale. Un progetto piccolo, ma che già raccoglieva la colonna, il triangolo, l'elemento, tutti i suoi elementi essenziali. Un altro progetto cruciale mai realizzato di Rossi era questo museo di Berlino della fine degli anni, di un po' prima della caduta del muro, alla fine degli anni Ottanta, quindi un progetto bello, ma che non ebbe poi seguito ovviamente perché cambiò completamente la geografia della città. Questo è un altro, come dire, cuore profondo dell'architettura romana, cioè gli studi e i primi modelli per il Corviale, una delle architetture, come dire, più memorabili nel bene e nel male della città e il chilometro e due che si stende oltre la Magliana, come dicevano allora, a deviare il Ponentino sostanzialmente. Un progetto bello e controverso. Questi sono, il studio labirinto, sono testimonianze di un periodo molto vivace dell'architettura romana, sempre anni 60-70, gruppi che facevano molto ricerca, molto a contatto con l'arte, molto molto da rivalutare, credo, oggi. Anche quest'area è molto interessante, c'è un plastico, io credo, fatto più tardi dallo studio di Franco Purini e Laura Termes, che però racconta un loro studio degli anni del 66, uno studio di Franco Purini, credo, prima della Termes, che si chiamava La città compatta, che è un plastico che quasi ci fa sentire dolore per capire qual è stata la grande potenzialità perduta dell'architettura italiana, cioè tutte le cose che c'erano sul piatto e sulla tavola negli anni 60, che poi, come dire, è bello ma è anche doloroso il fatto che poi altre situazioni, altri architetti fuori dall'Italia hanno saputo cogliere e rielaborare molto meglio e con molto più successo dei nostri. Questo forse è il sanctorum della mostra, questo tavolo con questi tre modelli di sacripanti, uno questa torre che era la torre che vince il concorso per il grattacielo Peugeot a Buenos Aires, un progetto di straordinaria attualità, un modello molto semplice, come vedete, di legno e rivestimenti, legno pittato sostanzialmente, ma è un progetto che potrebbe essere fatto, diciamo, fra due anni da architettonica praticamente. Ancora quello che dicevamo prima sui modelli concettuali è spettacolare questo piccolo concept, come dire, sempre di sacripanti che, come dire, in qualche modo ci racconta già forse il 50% dei progetti di Colas in un semplice schema. Ancora poi sacripanti entrò ossessivamente un pochino in questo lavoro sul cerchio, sulla meccanica diciamo del progetto, con risultati a volte belli, a volte anche un po' meno. Questo è uno dei tesori del Maxi, c'è questo straordinario modello del ponte di Musumeci per lo stretto di Messina, argomento che ancora non abbiamo esaurito in Italia, questo era un concorso. La prima volta che si fece il concorso per il ponte era nel 1967, il progetto fu vinto da questo gruppo in cui i Musumeci si occupava del ponte in se stesso e della sua struttura, Quaroni si occupava di tutto il resto, degli effetti urbani e dell'architettura di questa cosa. Forse è ancora il progetto più bello di quelli che abbiamo visto sul ponte di Messina. Ancora sempre per raccontare questa fase in cui quello che toccavano diventava oro e gli architetti romani degli anni 60 e forse architetti che non sono stati poi i primi investigati nella storiografia, che forse quindi c'è molto da lavorare oggi volendo, era questo bellissimo progetto di Masino Valle per la sistemazione di Auschwitz, del museo del campo di concentramento. La collezione e il museo ovviamente ospita lavori anche di architetti più giovani, di architetti più vicini a noi, quelli che vediamo qui sono dei plastici molto belli dello studio Jan Plus, che è un progetto in Corea, un progetto di residenza, quindi bisogna essere sempre keep up, tenersi al passo e far sì che il museo costruisca continuamente la sua identità giorno per giorno. Qui sul muro vediamo le 14 più una proposta per il museo Maxi, compresa la mia che era ovviamente una di quelle perdenti, insieme a Daldo Imonino e Moserricci e Carmelo Andriani, però si vede come alla fine della fiera secondo me la commissione scelse il progetto migliore, perché quello di Zadid forse sarà quello più appropriato in quel momento per vincere il concorso e alla fine poi la storia in qualche modo le dà ragione.